Ho messo con una Betis, le barelle, le barelle perché il pastore ha preparato un amo di leggeri, allora ho messo un amo in Daici, vuoi anche la marca e intanto non ce la resta Nessuno si che vuole. Il 1560 da Daici del 14, ho messo una testina, un pallino in tungsteno, questo non è in tungsteno, è normale, e tenevo sì, il 60 forse è un po' troppo grosso, ci metto le cose, fa il fagiano No, no, invece se qualcuno ha domande, perché sennò diventa... Con un mazzetto di code... Tre? Tre code, sì, in teoria avrebbe tre code la ninfa di Betis, anzi... Chiamolo di rame? Sì, questo è verde oliva, però lo puoi mettere anche dorato, metto un pochino del filo di fiume, del filo di fiume un po' per fermare la pallina La pallina Tutti qui... L'ho fermato il filo, ho fatto un giro di filo, mi metto poco perché sennò poi viene dei corpi grossi, su questo inferi è un po' tanto grosso, non è bello È più quasi per fermare la pallina Sì, sì, per ingrossare un po' l'alto Non è bello, non è Così che l'è? Questo è il tins Ah, il tins è nuovo Se non l'avevi fermato No, non l'ho messo Sì, prima lo metto il piume E poi può ammuntare Più cineosi ci metto un paio di fibre Non è bello Ma è diverso Sì, perché sennò devi fare Ah, fa proprio una cosina Esile, esile Giro a giro lo fermi con il filo, giusto? Come? No No, no Lo giri e basta? Sì, non lo sto soltanto girando Fastidioso Chiamami la sicurezza Chiamami la sicurezza Chiamami la sicurezza Quando arrivo più o meno all'altezza del filo di piume è un po' fermo Gli avvolgimenti li fai sempre dalla parte della stessa Ma non va in contromano No In contromano insomma Sì, in teoria andrebbero fatti in contromano Magari ti dà un po' più di robustezza Tu ci monti sopra e lo fermi Tu ci monti sopra e lo fermi Io faccio perché visto c'è anche gente che comincia ora almeno gli si dà un po' di Ah, sì Il pavone è l'alzamento Ah, c'hai proprio il perucchino di pavone No, 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 questo no Questo è un dumping Ah, no, ho pensato che tu fossi messo a spiegare Ah, tutto C'è qua con il palazzo Ah, c'è qua con il palazzo Ah, circa che lo faccio Il palazzo Il palazzo Fate preamolo Poi per finire se vi lascio daovere fare Perciò di farlo una sacchettina mare Proprio per impirlescente, con il flashback, ad ultima moda mediana, c'è anche i colori, ma mi sembra tutto guardato. Ma c'è l'olive, c'è l'olive vicino? No, tu sei sotto la luce. Che glielo leghi soltanto sulla testa? Sì, sì. Come una sacca l'arbre, come fosse una sacca l'arbre. Sì, sì, ho capito. No, pensavo tu facessi... Ah, tu te la leghi soltanto davanti. E' un testo. With finish... E' finita. Questo è il sacca, al pezzo che avanza, ti rifaccio lo stesso adattamento. Quindi c'è... Detto il seo... Fatti vedere... Come si vedeva di te così? È... No, no, no. Piorella...